Dottoressa, quanti tipi di interruzione di gravidanza volontaria sono previsti e quali tempi definiti dalla legge? Allora, l'interruzione volontaria di gravidanza si caratterizza praticamente fino alle 12 settimane e sono previste due possibilità, o la possibilità farmacologica o la possibilità chirurgica. La possibilità farmacologica è andata in vigore nel nostro paese nel 2009 e praticamente è possibile farla, si fa in due volte, prendendo un farmaco che si chiama mefiepristone e dopo 48 ore prendendo delle prostagrandine. Il primo farmaco fa un'induzione, una preparazione dell'endometrio e anche un ammormidimento del collo e prepara l'utero a ricevere poi le prostagrandine che invece producono i cosiddetti dolori e fanno uscire il materiale. E questo si può fare in Italia solo fino a 49 giorni, mentre negli altri paesi europei si può fare fino a 63 giorni. In realtà è un metodo sicuro, con pochissime conseguenze e anche con la possibilità, cioè se uno segue lo schema preciso di farmacologia, nel senso dando la compressa, istruendo le donne di non fumare quel giorno, comunque di fare una vita tranquilla in questi giorni, il 5% solo con il primo farmaco può abortire, mentre il resto con tutte e due le somministrazioni. In realtà noi abbiamo visto che questo metodo e negli altri paesi ormai è all'80%, nel nostro paese è ancora molto basso perché ci sono delle resistenze pensando che intanto sia più facile fare l'aborto e in un altro senso molti hanno paura di chissà cosa succede, invece non ci sono controindicazioni. Per quanto riguarda invece l'aborto chirurgico, noi pratichiamo l'aborto chirurgico fino a 12 settimane e 6 giorni, sono 90 giorni dal concepimento e in questo si racchiude l'aborto cosiddetto volontario, si fa con l'aspirazione, l'isterosuzione insomma e prima noi prepariamo il collo di solito con delle prostaglandine in modo che non sia traumatico e successivamente facciamo questa aspirazione. Durante questo aborto chirurgico solitamente cerchiamo di convincere le donne a usare una contraccezione e siamo in un programma nazionale sulla contraccezione che abbiamo fatto con l'Augoi nazionale, che sarebbe l'organizzazione della ginecologia ospedaliera, che porta avanti un discorso di contraccezione, long acting, con praticamente la spirale viene introdotta nel momento che la donna fa l'interruzione di gravidanza. Le spirali possono essere a rame o medicate. Quelle medicate, per esempio, abbiamo una spirale per le giovani che non hanno avuto figli, quindi in realtà viene usata anche questa e dura una durata di tre anni e noi la consigliamo alle ragazze giovani perché non fare nessuna contraccezione comunque è un problema serio perché si può avere più aborti, si può andare incontro a più gravidanze e non sempre comunque fare un'interruzione di gravidanza è una cosa semplice. Bene, il San Camillo, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, è il primo ospedale del Lazio per accessi giornalieri di IVG. Quante procedure ogni anno potete contare? Noi, questo reparto è stato sempre il reparto che ha fatto più interruzioni nel Lazio. Quest'anno noi abbiamo fatto 857 IVG farmacologiche e 1200 IVG chirurgiche. Fra questo dobbiamo anche immettere le cosiddette gravidanze che vengono interrotte in seguito a una diagnosi prenatale con problemi, quindi che sono 150 all'anno più o meno. Ma fondamentalmente sono due o tre ospedali nazionali che hanno questo tipo di numeri. Noi concentriamo molto il lavoro, siamo aperti tutti i giorni, è un day hospital e offriamo un ventaglio di prestazioni, fra cui anche un ambulatorio di contraccezione, sempre nell'orario di servizio di questo day hospital, perché le donne poi tornano a fare un controllo e possono appunto usare un metodo contraccettivo. La legge parla chiaramente che noi che facciamo questo tipo di lavoro dobbiamo fare un lavoro molto importante sul cancelling e sulla contraccezione. E su questo ognuno di noi ci dedica del tempo, ogni donna, perché a volte può succedere una svissa, o spesso ancora nel nostro paese c'è la possibilità che dei medici dicano di sospendere, cioè soprattutto i medici di medicina generale, dicono di sospendere la pillola. È caso strano, proprio quando c'è la sospensione, queste donne rimangono incinta. Quindi il problema è che intanto le pillole sono molto cambiate, sono a basso dosaggio, e quindi questa sospensione non dovrebbe essere fatta. E comunque, se viene fatta, bisogna usare un altro tipo di contraccezione. Oggi esistono infiniti metodi contraccettivi, cioè esiste il cerotto, esiste l'anello vaginale, e chiaramente il condom, oppure anche il condom femminile, che è difficile trovarlo, ma si può avere. Dopo un aborto di tipo farmacologico o chirurgico, possono esserci effetti sulle successive gravidanze o sul nascituro? No, in realtà è difficile che ci siano praticamente conseguenze. Certo, ci possono essere situazioni in cui la donna ripensa al fatto che ha fatto un aborto, ma non esistono queste sindrome che vengono sbandierate sulla depressione dopo un aborto, è difficile. Io sono convinta che la letteratura anche internazionale non ci sono così tanti studi che danno questa... Sono stati fatti in Cina soprattutto, e vengono usati per andare contro la discussione sull'aborto. Voi sapete che comunque l'aborto è un tema sensibile, e noi abbiamo avuto tantissime battaglie in questi anni sul portare avanti una legge dello Stato. Diverso è il discorso per la procedura nel caso di aborto spontaneo, e in caso quali sono i sintomi più comuni che lo causano? No, dunque l'aborto spontaneo intanto bisogna vedere quando l'epoca di gravidanza, quando si instaura una gravidanza, nel senso che l'80% degli aborti spontanei sono dovuti a riarrangiamenti cromosomici. Normalmente a volte, quando c'è l'incontro, fa lo spermatozoo e l'ovocita, in realtà spesso nella meiosi ci si formano dei riarrangiamenti che magari sono anomali, magari una trisomia oppure anche cromosomopatia anomale, quindi non si instaura la gravidanza, oppure ci sono dei fenomeni di capacitazione che non fanno sì che si annidi bene la gravidanza. E quindi ci può essere un aborto spontaneo. L'età della gravidanza dovrebbe essere anticipata, è chiaro che nel nostro paese invece la media delle donne fanno una gravidanza intorno a 37 anni, quindi cominciano a pensare ad avere un figlio a 37 anni. Quindi abbiamo sicuramente un problema di età, perché la gravidanza andrebbe fatta da giovani. In realtà invece c'è un problema di poter formare una famiglia dovuto alla precarietà del lavoro, sicuramente. Grazie. Grazie a tutti.